Salve, con questo video voglio proporvi un giro che abbiamo fatto io e il mio amico Luca lungo l'argine del Po, l'argine sinistro per la precisione. Siamo partiti da Brescello e siamo arrivati a Porto Viro. Lì abbiamo pernottato e poi il giorno dopo ci siamo permessi di fare il giro nel delta del Po seguendo le indicazioni che ci venivano fornite via via lungo il percorso. Siamo arrivati praticamente a Ferrara seguendo in tutta sicurezza l'argine che è ciclabile e da Ferrara abbiamo preso il treno per tornarcene a Parma. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.